Sai che sto comprando casa? Ma dai! Hai pannelli solari? No! E il riscaldamento a pavimento? No! E l'aspiracolvere centralizzato? No! Almeno la caldaia a condensazione? No! Allora devi andare da Donegà! Donegà dal 1988 è costruzione, ristrutturazione e vendita di edifici civili e industriali, compravendita, urbanizzazione di aree edificabili. L'impresa Donegà è specializzata nella vendita diretta, chiavi in mano di immobili realizzati in conto proprio, dove la qualità e i materiali innovativi e le rifiniture rendono le abitazioni estremamente funzionali. Donegà propone a prezzi interessantissimi e in località particolarmente comode le principali vie di comunicazione, come Vigarano Mainarda, San Martino, Santa Maria Maddalena e Sant'Agostino, abitazioni di alta qualità e tecnologia progettate per soddisfare i clienti più esigenti. Tutte già dotate da capitolato di vespaio aerato, murature esterne con isolamento a cappotto, murature interne in argilla a fono isolante, pannelli solari integrati nel tetto, caldaie a condensazione, riscaldamento a pavimento, termo a redi nei bagni, impianto di climatizzazione, aspirapolvere centralizzato, infissi con vetri bassoemissivi, telaie scuri in legno, zanzariere di serie, sanitari sospesi, rubinetterie di alta qualità, parchè nella zona notte. Possibilità di scegliere fra oltre 100 combinazioni di pavimenti e rivestimenti posati a scelta dell'acquirente. Marciapiedi esterni in porfido, posto autocoperto, impianto antenna parabolica e satellitare, corpi illuminanti esterni, cassetta di sicurezza e tanto altro ancora. Tutte le nostre abitazioni sono inoltre conformi alle più restrittive normative in termini di risparmio energetico che consentono di avere bassissimi corsi di gestione e di riscaldamento. Donegà rilascia alla stipula del contratto fideiussione per gli acconti versati e da rogito assicurazione decennale postuma sull'alloggio venduto, certificazione energetica, libretto uso e manutenzione. Donegà, la vostra casa di qualità. I'll give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy.